Cooper, di qua. Cooper, non posso più proseguire la missione, ma tu puoi. Prendi il Kid Seeker. È la tua migliore possibilità di sopravvivenza. Prendi il Kid Seeker Tutti i velivoli, fuoco. Capitano, hai la posizione del segnale. Rilevo qualcosa, ma è debole. Non posso confermare. Domandate Briggs, rilevo un nucleo. Il segnale è debole. Sicuro di avere le coordinate. Potenziali il segnale. Devo comunicare con loro. Comandante Briggs, ho la posizione di Cooper. Ha preso il nucleo di BT. Deve avere in chi sia. BT! Cooper! Come state? Cooper! Mi ricevete! Passo! Cooper, sono il comandante Sarah Briggs. Se mi ricevi, vai al posto a un chilometro a nord della tua posizione. Abbiamo una possibilità per ribaltare questa battaglia e sei tu. La nostra flotta va all'arma da piegamento. Stiamo arrivando. Non è ancora finita. Sei diretto nella direzione giusta. Continua a muoverti. Le difese antiaeree intorno all'arma da piegamento sono molto pesanti. Non riusciamo a posare piedi a terra e non abbiamo quasi più idee. Abbiamo un ultimo Vanguard nell'arsenale. Estraggo il suo nucleo e lo preparo per Titanfall. Non riusciamo a posare piedi a terra, non riusciamo a posare piedi a terra. Non riusciamo a posare piedi a terra. Cooper, è il tuo Titan aspetta. Chiamalo quando sei pronto. Prepararsi a Titanfall! Ciao, Jack. Felice di riaverti tutto intero. Oltre 25.000 pezzi in verità. BTI-7274 online è pronto per la battaglia. Portiamo a termine la missione. Cooper, sto lanciando tutto quello che ho all'IMCI, ma non sarà sufficiente per fermare l'arma da piegamento. Devi entrare nella sala di controllo. Comandante Briggs a tutte le postazioni. Voglio fuoco di supporto ravvicinato su Cooper e BT a qualunque costo. Ricevuto, porta e chiaro. Cooper, sali in quella collina. Ricopriamo, muoviti. Uncchio a funzione pronto. Rilevo i versaggi. Sparo, pericolo vicino. Ripeto, sparo. Pericolo vicino. Ripeto, sparo. Pericolo vicino. In fondo! Rilengo i messaggi! Sparo per il cloro vicino! Sparo per il cloro vicino! Sparo per il cloro vicino! Forza. 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 Dacocitato. Rilevo i metagli! Faro pericolo vicino! Attenzione! Attenzione! Arredo di un po' attento. È spazzato! Iniziato! Nuoviti! Non fermarti! Benvenuto al tuo funerale, pilota. Proprio la scucia è pronta. Perfetto! La Stockton è sparita! Voglio un rapporto! Subito! Qui è il Capitano Lendegard della Rathledge. La Stockton sta precipitando! Comandante Briggs, qui Gates della 64. Siamo in ritardo? Appena in tempo, Gates. Quanta potenza ti è rimasta nella Malta? Ne abbiamo volontà. Tranquillo, Coop. Ti guardiamo le spalle. Sistemi di mira attivi. Stiamo pronti a sparare! Pertaglio agganciato! Fuoco! Non andrai da nessuna parte, pilota. Fuoco! Pericolo vicino! Non. Fuoco! Coricolo vicino! Espaglia agganciato! Fuoco! Non mi sono 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 fuoco! Tancho l'occhio scarica. Fuoco, pericolo vicino. L'arrivo di 5 a tempo. Hai tant'nemico in vista? Sei mio, inferno. Non lo avvicino proprio. Rulliamo questi di dosso. Da qui in poi sei da solo. Dovrai fare meglio. Super. Rileviamo Blisk e Sloan più avanti. Hanno l'arca. Continua a muoverti. Dobbiamo impedire a tutti i conti che gli MC usi l'arma da piegamento. Altrimenti Harmony, l'arena della polizia verrà distrutto. In un'altra. In un'altra. L'arrivo di più. Notalità pilota attivata. Notalità, 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 notalità. 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 Fatte me. Da qui in poi ci pensano i miei. Con grande piacere. Credo che il pilota miliziano voglia fare l'erore. È tutto tuo. Vieni pure il resto. Chi ha mai parlato di resto? Questo lo faccio gratis. Sai? Ma cosa vedo quando ti guardo? Un pochino. Hai un nemico a te? Chissure Arca Kai. Preparare fase 1. Svegli una funzione umana. Svegli un tentativo, ma non so che la faccio. Devo ammettere il pilota. È più divertente di quanto pensassi. Prendetelo ragazzi. Preparazione arma da piegamenti. Fasi 2. Coordinate avviate. Sistema dritti. Designazione avviate. Armi. Lo affusiamo. Armi. Armi. Pronta a combattere. Non puoi scappare da un nucleo laser, fuci! Arma da piegamento top, calcolo proiezione piega spaziale. Un nucleo astrizione classica. Vediamo come te la cavi con questi. Dai, facciamolo, deficienti! Ehi, non stai ne andando qui, ti faccio il tempo. Quanto avrò finito con te, avrò i migliori. Mi dispiace. Ma è uno di voi. Attenzione, energia di carico vicino alla soglia letalda. Tutto il personale deve lasciare subito la sala. Previsto grave disturbo alle unità elettromecane. Scrivo la notte, piccolo bastardo. Non verrò distrutta da una parte di Kain. Aaaaaaaaaaaaaaah! Hai l'annimico? Cooper, porta l'arca fuori di lì prima che parta, adesso! Preparazione arma da piegamento completata. Chiaramente avuto. Mi ricevete! Cooper, BT. Mi ricevete! Cooper, carico degli lettori a sovraccaricare i miei sistemi internally critici. Tentativo recupero- Sistemi ovulari- Sistemi visibili di- ... ... Idealisi Marcus non è l'unica opzione. Posso alciare... Attenzione! Attenzione! Scopo, potete ne vedeppato. Sei fortunato, eroe. Oggi non ti uccido. Io non lavoro gratis. Però... Nemmeno tu riuscirai a uccidermi. Tieni, te la sei meritata. Vlisk, il Titan di classe Vanguard è ancora là dentro. Non è un mio problema, Marder. Dovevi scriverlo sul contratto. Devo vedere altra gente ricca. Che stai facendo? Cosa credi di fare? Le analisi indicano che il lancio è l'unica opzione. Le analisi indicano l'unica opzione.